Mi mettevo in coda al ragionamento del Presidente di Reggio Emilia. Certamente, come ha detto lui, non ha conosciuto Gianni Vignardi, però ha colto l'essenza della rabbiatura che Gianni Vignardi aveva in questo modo di operare. Cioè il fatto che le norme sono spesso avulce dal contesto e quindi si cerca attraverso le norme di fare qualche cosa che non è permesso. Quindi dovremmo anche cercare, questo è un invito che rivolgo all'università, l'università cerca sempre, diciamo così, gli aspetti più teorici, più accademici, eccetera, eccetera, e con questo a volte si perde il senso della misura, della ricaduta che queste cose hanno. Esempi pratici che ho vissuto io personalmente, piccoli interventi su edifici che hanno, con qualche anno di età, insomma, parlo dell'inizio del secolo, abitati, in parte abitati, in parte no, questi interventi sono classificati per la legge 19 come interventi sostanziali e inducono uno studio che è impossibile fare quando gli stessi sono abitati, quando si potrebbe comunque intervenire e avere un miglioramento sostanziale. Perché poi l'esperienza di questo terremoto ci ha fatto vedere che sono sufficienti poche cose, cioè gli sforzi per contenere gli spostamenti a volte sono minimi, però se non ci sono l'edificio crolla, insomma, quindi i piccoli collegamenti nei posti giusti, cioè se ci fosse la possibilità da parte delle istituzioni di lasciarci lavorare come ingegneri probabilmente avremmo, diciamo così, dei risultati migliori. Il fatto di essere così un po' critici nei confronti delle norme, non è che noi non vogliamo rispettarle, guardate bene, noi vogliamo rispettarle le norme, però vorremmo che anche dall'altra parte, parlo dei tecnici istruttori, dei vari comuni, ci fosse una consapevolezza, una responsabilità. Io lavoro nell'ambito del restauro e del recupero degli edifici e noto sempre più con dispiacere che c'è un atteggiamento da parte di questi tecnici un po' supponente, nel senso che non si rendono conto che chiedere delle integrazioni per delle cose che non hanno significato, porta a ritardi nell'intervento di alcuni mesi che fanno slittare di altri mesi l'inizio dei lavori e creano ulteriori disagi nei confronti delle nostre popolazioni, perché il nostro obiettivo è quello di fare un servizio alle popolazioni. Noi siamo dei professionisti, guardi il sindaco perché... Però se è comune bisogna che ci lavoriamo insieme, perché poi è chiaro che ci sono anche i colleghi che non lavorano con... Esatto, è complicato, però noi siamo qui, ecco. L'ho preso lo spunto da quello che ha detto, io mi ero trattenuto però. Grazie.